Ciao a tutti, oggi vedremo insieme la storia delle emoji. Partiamo subito col dire che cosa sono queste simpatiche faccine che quotidianamente usiamo. Gli emoji sono simboli pittografici, cioè disegni, che negli anni 90 in Cina e in Giappone erano molto popolari. Oltre alle emoji ci sono anche le emoticon. Molti di noi pensano che siano la stessa cosa, invece non è così. Ora vediamo la differenza tra questi. L'emoticon è un disegno che viene realizzato usando solamente elementi del testo, come punti, virgole, parentesi e altri elementi della punteggiatura e lettere dell'alfabeto. Differente è invece la storia delle emoji, che non furono introdotte da un singolo individuo ingegnoso, ma da un'azienda giapponese di comunicazioni che aveva notato negli anni 90 una forte crescita dell'utilizzo di emoticon e, per questa ragione, decise di realizzare immagini che avessero lo stesso fine delle icone realizzate con i caratteri. Ci sono diversi tipi di emoji, vediamone alcune. Quelle più popolari dell'iPhone, che può essere iOS, sono uguali a quelle di WhatsApp. Poi ci sono quelle di Android e quelle di Windows. Un'altra informazione di cui non sapevamo l'esistenza è che il 17 luglio è il World Emoji Day. Il primo compleanno delle emoji è stato nel 2014. Per rendere questo video più divertente, andiamo a conoscere le emoji più popolari. La prima è la faccina con le lacrime di gioia, più di 332 milioni di utilizzi, seguita da quella con gli occhi a forma di cuore, più di 254 milioni. Quindi la faccina che manda il bacio a forma di cuore, più di 160 milioni. Grazie. Grazie.